Oggi andiamo a vedere un po' di siti, un po' di strumenti, un po' di tool che ci possono tornare davvero molto utili durante i nostri trade di NFT nel Web3. Ve li faccio vedere perché secondo me è un modo per andare a battere in parte le motività, le emozioni, che dobbiamo cercare di rimuovere completamente dal momento che andiamo a effettuare un acquisto. Non dobbiamo essere guidati dall'emotività, ma dobbiamo essere guidati dai grafici, dall'analisi e quindi dalla logica. Partiamo subito con il primo tool, che in realtà si tratta di un sito web, saranno tutti tool, siti totalmente gratis, si chiama Dune. Lo possiamo tranquillamente cercare su Google con l'indirizzo www.dune.com. è un'analisi cripto gratuita per la community. In realtà si tratta di dashboard, come possiamo vedere qui ci sono le più popolari, possiamo andare su and more e qui ci va a vedere tutte le varie dashboard. E' davvero molto utile sia per gli NFT ma anche per le crypto, qui possiamo vedere Shiba Inu, abbiamo Frax, qui sulla destra ci sono tutte le varie persone che sono all'interno di questo dashboard, Stepn, l'applicazione che ha scoppiata per le scarpe, Magic Token, ma quello che interessa a noi per quanto riguarda gli NFT è esattamente questo qui, ovvero la dashboard di OpenSea. Ne abbiamo davvero differenti, ci sono 1500 pagine, quindi se avete un po' di tempo, soprattutto se volete analizzare bene sia gli NFT sia le crypto, questo è uno strumento utilissimo anche perché è gratuito. Quindi andiamo a cliccare sulla dashboard che ci interessa, quella di OpenSea, e qui possiamo vedere davvero un'analitica totale, così da renderci conto sia in che momento ci troviamo ma anche per andare ad anticipare il trend. Nel primo grafico abbiamo i volumi di OpenSea su base mensile, possiamo vedere già qui che ci troviamo in una situazione di bear market molto differente rispetto ai precedenti mesi, infatti nel mese di giugno abbiamo scambiato circa 700 milioni, mentre nel mese di maggio siamo arrivati addirittura a circa 2 miliardi e mezzo di volume all'interno di OpenSea. Qui possiamo vedere nel daily, quindi qui abbiamo più un riscontro ravvicinato, così da capire se magari il trend degli NFT o comunque tutto il mercato delle crypto sta ripartendo, lo vedremo sicuramente da queste candele che inizieranno ad alzarsi, perché più si alzano queste candele più vuol dire che ci sono più scambi, quindi più c'è volume all'interno delle giornate su OpenSea. Qui abbiamo un dato importante, ovvero queste candele rappresentano gli scambi, o meglio gli NFT venduti. Come possiamo vedere non c'è tanta differenza rispetto alle candele precedenti, qui ci troviamo nel mese di giugno, che è esattamente questa candelona qui, ci fa vedere che qui ci sono pochissimi volumi, però gli NFT venduti addirittura superano il mese di maggio. Come è possibile? Lo abbiamo riscontrato vivendo questi giorni, questi mesi all'interno del web 3, in quanto è esploso il trend dei free mint, quindi il digen più totale, ci sono stati tantissimi free mint che hanno accentuato esponenzialmente le vendite di NFT, anche se ovviamente non sono andati a portare tantissimi volumi, perché si tratta di NFT a zero Ethereum, però ci sono state delle vendite molto considerevoli. Qui abbiamo il grafico dei trades attivi su Ethereum, quindi all'interno di OpenSea. Vediamo che scorrendo abbiamo, oltre ad Ethereum, anche Polygon e infine anche Solana, quindi ci sono tutte e tre le principali blockchain, diciamo, utilizzate per lo scambio e per la compravendita di NFT. Anche questo sito web dal potenziale incredibile non vedo che è utilizzato da tantissime persone, nonostante c'è davvero molto molto potenziale. Si chiama Inspect, anche qui lo potete tranquillamente cercare su Google, magari vi lascio i link qua sotto in descrizione. Che cos'è questo Inspect? E perché ha un potenziale incredibile? Ci dà la possibilità, grazie al loro algoritmo, grazie alla loro intelligenza artificiale, ci fa capire quante persone stanno utilizzando una PFP all'interno di Twitter. Sembra una cosa senza senso, abbastanza scialba, ma se siete all'interno del mercato degli NFT, sapete che questa cosa ha davvero moltissimo potenziale, perché le persone vanno un po' a flexare la propria immagine profilo, sia perché li rappresenta, ma anche perché magari sono andati a fare un acquisto davvero importante, e quindi vogliono condividerlo con tutta la community e con tutte le persone che li seguono all'interno di Twitter. Possiamo vedere che ci sono due funzioni, ranking e nomination. Vi faccio vedere questa qui di nomination, che è nuova, è stata aggiunta da poco, dove possiamo andare a votare gli account di tweet. Quindi è anche molto molto utile per andare a cercare degli account da seguire, però come qualsiasi sito applicativo dove le persone possono votare, la maggior parte delle volte, diciamo, questi voti sono telecomandati o comunque non rappresentano la realtà. Lo possiamo tranquillamente vedere, qui abbiamo varie categorie, abbiamo i sheet poster, gli analytics, i builder, i fooder, gli artisti, e vediamo all'interno della categoria degli artisti, qui stavo dando una spizzata prima, c'è Motion Marcus, che secondo me è uno degli artisti più forti dell'ultimo periodo, che ha fatto uscire Invisible Friends e collabora anche alla realizzazione di altri progetti davvero in stile GIF allucinanti, abbiamo anche Beeple. Come possiamo vedere però, Motion Marcus ha 6 voti, Beeple solamente 43 voti, e il primo è il professore, questo professore qui che noi cliccando possiamo andare a vedere all'interno di Twitter chi è sto professore e in realtà è una persona abbastanza sconosciuta, ha solamente 106 follower con nessuno dei miei account che lo segue, quindi diciamo non è seguito da tantissime persone, dovrebbe far parte di Private Foxes, che è un progetto che io non conosco, non credo ci sia tantissimo potenziale all'interno di questo progetto, però che cosa è andato a fare? Sicuramente è andato a chiedere voti all'interno di Discord, o comunque all'interno dei suoi gruppi, così da arrivare primo e scillarlo all'interno anche di Twitter, magari per ottenere credibilità, ma soprattutto per dare sicuramente luce al suo progetto. Quindi non ci facciamo ingannare da questi voti che come vi ho detto possono essere telecomandati, ma dobbiamo sempre poi andare noi ad analizzare profilo per profilo e seguire quelli che hanno buoni follower o comunque sono seguiti da persone prestigiose. Comunque ritorniamo qui, vediamo che qui ci sono i più grandi movimenti nell'ultime 24 ore, abbiamo dei riferimenti anche in percentuale, Eros of Astron, vediamo di che cosa si tratta, qui ci possiamo passare ore e ore, ma è davvero molto molto utile. Vediamo che è un progetto nato da poco, è uscito il 9, e il ranking all'interno di questo sito dà un rank di 1700 e è passato a 180, quindi è in crescita il trend e vediamo che le PFP utilizzate, gli account su Twitter stanno salendo dall'inizio che ce n'erano solamente 3 account, adesso ci sono 106 account con un'immagine profilo Eros of Astron. Qui abbiamo tutti i vari tweet con gli NFT, quindi tutti i tweet dove c'è un'immagine di questo progetto qui, e qui abbiamo una percentuale stimata sull'esposizione di questo account contro tutto il mondo di tweet web 3. Non so come facciano a calcolare questo dato, però comunque è molto importante se veritiero. Vediamo anche che c'è un floor price qui indicato con il simbolo di Solana, quindi questo è un progetto Solana, il totale dei volumi scambiati, gli item e i listening. Possiamo andare a vedere così, per curiosità, andiamo all'interno del marketplace di Magic Hidden e vediamo se effettivamente questo dato corrisponde magari ad un accrescimento del floor price, perché generalmente se più persone utilizzano l'immagine profilo, vuol dire che più persone stanno acquistando e quindi il floor price di conseguenza dovrebbe salire. Questo è il progetto, non so assolutamente di che progetto si tratti, l'ho aperto totalmente a caso. Vediamo all'interno delle analytics, comunque che sicuramente, anche perché è nato da poco, avremo un trend crescente, forse. Sì, abbastanza crescente il trend, nonostante ha iniziato a una media di... No, no, il trend è crescente, infatti ora lo troviamo a 0.90. Volevo vedere qua dietro se c'era qualcosa. Un floor iniziale a 1.50 Sol, però dipende perché effettivamente no, i volumi erano a 0, quindi questo 1.50 Sol non so cosa indichi. I primi volumi scambiati sono stati ad un floor medio di 0.49 Sol, e adesso lo ritroviamo a più del doppio. Quindi il progetto è in crescita e infatti lo riscontriamo anche all'interno di questo sito. Non lo ricordo, è totalmente gratis. Qui abbiamo i movimenti, i maggiori movimenti nell'arco delle 24 ore e qui invece abbiamo i nostri progetti, diciamo i progetti più famosi e che stanno all'interno del web 3 da più tempo. Possiamo andarli a filtrare a secondo della chain, qui ho messo Ethereum. Vediamo dei dati che magari possono anticipare il movimento del floor price sia in up sia in down. Bored Ape è il progetto con le immagini profilo più utilizzate su Twitter. Poi seguo Azuki, Moombers, Doodles, qui abbiamo anche il riferimento del floor price. Possiamo vedere che i primi sei progetti hanno un floor superiore a 10 Ethereum e sono anche considerabili tranquillamente dei progetti Blue Chips. Il decimo progetto in crescita è MFIRTS. Hanno esattamente 2341, quindi ci sono 2341 persone che utilizzano la PFP di MFIRTS all'interno di Twitter e vediamo anche un dato significativo che è esattamente la stima in percentuali che abbiamo visto prima, ovvero quante persone nella totalità di tweet NFT stanno utilizzando questa PFP. Vi ripeto, non so come fanno a generare queste percentuali, ci sarà appunto un'intelligenza artificiale che va ad esaminare diversi aspetti e li accorpa facendo uscire questi dati. Poi abbiamo CloneX, insomma ci sono diversi progetti con percentuali di crescita e di decrescita. Molto interessante questa rubetta qui, possiamo vedere che Boggy è al 23esimo posto perché generalmente, come abbiamo visto prima, un aumento delle PFP su Twitter potrebbe significare e coincidere con un aumento del floor price. Vediamo qui negli ultimi 28 giorni che il ranking di MFIRTS è salito a 11, lo trovavamo 28 giorni fa a 19, poi abbiamo quante persone, questo è molto molto carino, utilizzano esattamente l'immagine profilo di MFIRTS, quindi abbiamo un grafico molto molto carino. Qui ci sono i vari tweet con gli NFT di MFIRTS, quindi nella totalità, questo qui è in decrescita. E poi abbiamo la percentuale, quella stima della percentuale che vi dicevo prima. Qui abbiamo anche un versus MFIRTS, quindi contro altri progetti NFT, Bored Ape, Moombers, Doodles, ti fa vedere come sta posizionato. Infine abbiamo i membri top della community, quindi se ci interessa MFIRTS, possiamo andare a spizzare questi progetti per vedere cosa dicono, cosa fanno, e la maggior parte di loro sono collegati anche con il progetto stesso. Anche se MFIRTS è un cc0 e effettivamente è guidato totalmente dalla community, però magari alcuni di questi personaggi potrebbero centrare con il progetto e quindi è utile, se ci interessa appunto questa NFT, seguirli. Un'altra robetta che vi volevo far vedere, anzi andiamo a vedere se effettivamente MFIRTS negli ultimi giorni sta salendo, perché se ci sono più PFP, addirittura abbiamo avuto un bel balzo da partire dal 6 luglio, ci sono 200 persone che hanno messo questa immagine profilo e effettivamente l'analytics di OpenSea ci fa vedere che sta salendo. Ovviamente io utilizzo tutto gratis, così che potete farlo anche voi senza andare a spendere un Ethereum. Poi ovviamente un Ethereum si fa per dire, poi ovviamente ci sono dei tool a pagamento, magari ci sarà un video sul canale che ve lo porto. Se siete interessati, fatemelo sapere qua sotto nei commenti con un bel like. Quindi, Inspect davvero molto molto utile per percepire le community che cosa stanno facendo e sappiamo bene che negli NFT soprattutto dove è davvero molto difficile andare ad operare perché è uno degli asset meno liquidi in assoluto, la community, le persone, sono la chiave del successo perché se vogliono far salire un progetto lo vanno a scillare su Twitter, mettono l'immagine profilo, ne parlano, così che le persone poi incuriosite si vanno a informare se magari il progetto è valido o comunque si sentono rappresentate da questo progetto, mi viene in mente Goblin Town che è nato così totalmente per gioco, poi le persone si sono appassionate a tutti i vari versi o ai meme che sono usciti sul web e così il progetto ha preso il volo e adesso dovrebbe stare anche intorno a 3 Ethereum. Un altro tool che ritengo davvero molto importante, anche qui possiamo avere il tool ma lo possiamo trovare anche su internet ovvero Rarity Sniper. Questo tool è fondamentale per andare a fare degli acquisti guidati soprattutto per ranking all'interno delle varie collezioni. Vediamo che io mi trovo nella pagina principale ci sono delle, nell'explorer, delle collezioni suggerite, alcune sicuramente hanno del potenziale, altre un po' meno. Comunque vi voglio far vedere, magari becchiamoci, ecco Bore dei Pioch Club, che lo conosciamo tutti quanti, qui abbiamo i vari rank, quindi rank 1, 10, 11, tutti i vari rank elencati e possiamo vedere anche quali sono in vendita. Cliccando su uno di questi NFT vediamo con l'aiuto di alcune percentuali perché proprio questa immagine è in rank 1. Ovviamente il rank è dato dalla combinazione di tutti i vari tratti dell'NFT. quindi questa immagine ha diciamo i tratti migliori combinati tra loro. Una cosa che ci tengo a dirvi non è detto che il far acquisti con il rank è la giusta soluzione. Ve lo faccio vedere subito. Innanzitutto andiamo su OpenC, qui ci dovrebbe portare all'interno di Bore d'Ape. Sì, siamo andati in Bore d'Ape. Io filtro sempre per Buy Now, così vediamo anche quanti oggetti ci sono in vendita. Molto molto bene. Ci viene in aiuto, oltre a questo sito per andare a vedere il rank, un altro sito sempre gratis, che è Trade Sniper. È un sito simile a Rarity Sniper, NFT, ma qui possiamo vedere. Abbiamo innanzitutto l'app, l'applicativo, dove anche qui ci sono tutte le varie collezioni di NFT con volumi decenti, cliccando all'interno di una di queste collezioni. Possiamo vedere il rank di tutti i vari progetti e i vari tratti, quindi capire perché un tratto è migliore di un altro. La risposta è semplicemente perché è più raro, quindi ci sono meno pezzi. Ma quello che vi voglio far vedere è l'estensione di Trade Sniper. Potete tranquillamente andare qui su Google Extension, quindi scaricarla, la mettete su Google, e vi faccio vedere quale utilizzo fondamentale abbiamo. Eccola qui, già ci viene mostrata. Quindi vediamo subito il rank e abbiamo la comparazione con il floor price. Ora, vediamo se riesco a farvi capire come funziona e perché io vi consiglio di andare a fare acquisti sui tratti e non sul rank. Vediamo magari, confrontiamo questi due perché lui ha pagato 100 Ethereum, un rank 936 che è in top 10, mentre quest'altra persona ha pagato 118 Ethereum, quindi 18 Ethereum in più, per un semplice rank 2262 comune. Quindi questo dovrebbe essere più raro. Vediamo cosa ci esce fuori. Quindi questo è il rank 136 in top 10. vediamo che innanzitutto va bene, andavo a pagare 100 Ethereum e l'ha già messo in vendita a 119 Ethereum. Quello che a noi ci interessa sono le proprietà. Questi tratti qui, vediamo che non c'è un tratto con una percentuale bassa, quindi dove ci sono pochi NFT in vendita, però abbiamo queste orecchie con il diamante che sicuramente ci sono 222 pezzi, infatti sicuramente sono quotate molto molto bene perché lui ha pagato questo NFT 100 Ethereum quando l'NFT subito dopo veniva a 150 Ethereum. Quindi è andato a comprarlo a 100 e l'ha messo in vendita a 19 Ethereum. In più una mossa molto sensata perché se magari qualcuno è interessato a Bored Ape e sta facendo un'analisi va a vedere questo dislivello e vuole fare magari un flip non velocissimo ma in qualche mese potrebbe comprare questo NFT per andarlo a mettere anche magari a 130-125 Ethereum così da generare un po' di Ethereum. Ora andiamo a vedere quest'altro che dovrebbe essere meno costoso e meno raro rispetto al precedente che era all'interno della top 10 ma vediamo se siamo... Sì, siamo fortunati, ok. Perché guardate qui, lui ha questo tratto che è a 0.68% all'interno della collezione è il vestito, quindi noi andiamo a aprirlo ricordiamo lui l'ha pagato 118 quindi un bel po' ma l'ha pagato così tanto perché ci sono solamente 68 item totali all'interno della collezione con questo tratto quindi capiamo che qui la rarità è molto molto più alta rispetto a quest'altro che ce ne sono 222 vediamo in vendita quanti ce ne sono qui ce ne sono 16 in vendita mentre di qua ce ne saranno 4-5 ce ne sono 8 quindi qui abbiamo due persone che fanno acquisti in due modi diversi uno analizza le proprietà e quindi i tratti e va a giocare diciamo più per logica ma anche va a fare un lavoro un pochettino più faticoso perché si va a spulciare le varie proprietà i vari tratti per andare a beccarsi questo qui che nonostante questo NFT è comune e ha un rank molto molto elevato ha una proprietà molto buona che gli può permettere nel tempo di fare diversi gain perché ci sono solamente 8 item in vendita lui è andato a pagare 118 Ethereum in realtà se vuole fare un flip nell'immediato è sconsigliato perché comunque andrebbe a metterlo a 120 Ethereum quindi guadagnerebbe 2 Ethereum poi più le gas fee che eventualmente dovrebbe pagare però chi fa acquisti su proprietà generalmente lo fa per il medio e lungo tempo mentre quest'altro personaggio è andato a pagare 100 Ethereum ma ha fatto anche un buon acquisto perché subito dopo l'NFT subito dopo è a 50 Ethereum in più quindi lui può giocare benissimo con la fascia di prezzo in quanto il suo è il primo NFT in vendita quindi se qualcuno è interessato a questo tratto e anche a un buon rank potrebbe addirittura fare un flipping quindi venderlo nel breve periodo io vi consiglio comunque di andare a combinare sia Rarity Sniper ma anche il tool di Treat Sniper perché la combinazione tra questi due tool sicuramente vi può portare a del successo mi raccomando se sei arrivato fino a questa parte del video un bel like e iscriviti assolutamente al mio canale YouTube per andare a trovare altre video simili con delle meccaniche per fare acquisti per fare vendite e per andare a eseguire dei gain all'interno degli NFT e delle crypto quindi mi raccomando iscriviti adesso fammi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensi e se magari se conosci altri siti, tool o strumenti gratis che possiamo utilizzare noi ci vediamo a un prossimo video ciao